E chi vuoi vedere oggi? Chi voglio vedere, ma come giudici, è sicuramente Franco Matano, perché è un idolo per noi giovani, Franco Matano. Poi soprattutto campani. Da dove vieni? Da Cisciano, vicino Napoli. Pronti a tutto per vedere? Assolutamente sì. Chi vuoi incontrare? Eh, Franco Matano anche io. Eh, del nostro paese, quindi sì. Però credo, Bisio, non mi dispiacerebbe. Da dove vieni? Avellino. Chi vuoi vedere oggi? Tutti quanti, Franco Matano in particolare. Che momento particolare dello show che non vuoi proprio perdere? Che tipo di artista vorresti incontrare? Ma io in realtà voglio vedere tutto lo show, sono molto emozionato per questo. Chi viene da lontano? Da dove vieni? Da Forino. Come? Da Forino, provincia di Avellino. Sei qui per assistere allo show, quali sono i tuoi personaggi preferiti? Beh, ci sta Claudio Bliso che è un personaggio molto interessante, divertente. Beh, sono andato qua per vedere un po' le cose, insomma, niente di che. Da dove vieni? Da Mercato San Severino. In coda per? Per tutti, tutti in generale, mi piacciono tutti. Da quanto tempo siete in coda? Una mezz'ora, una mezz'ora abbondante. Ma siete pronti a tutto? Eh certo. Noi siamo qua per qui. Senti, mi fai l'imitazione di Frank Matano? No, non è cosa. Mi fai l'imitazione di Frank Matano? Eh, non penso di esserne capace. È meglio farla fare a un'altra persona. Tu come ti chiami? Roberta. Roberta pronta a tutto in coda per vedere chi? Frank Matano. Frank Matano. Che cosa ti aspetti da questo pomeriggio speciale e soprattutto chi proprio vorresti vedere, conoscere? Io mi aspetto soprattutto tanto divertimento al di là delle persone, dei VIP, tra virgolette, che andremo a vedere e poi secondo me Bisio ci farà divertire tantissimo perché ha una comicità particolare rispetto agli altri e mi piace tantissimo. Tu per chi sei in coda, chi vorresti conoscere dei giudici? La Letizietto. Perché ti piace tanto? Eh, perché è simpatica. Da dove vieni? Da Avellino. È stato difficile prenotarti un posto al Gesualdo? Mmm, non lo so e siamo venuti in gruppo, quindi è stata più una cosa di gruppo. Da dove venite? Da Grotta Minarda. In coda tanto tempo? Eh, sarà una mezz'oretta, sì, mezz'ora. Cosa si aspetta da questo pomeriggio al Gesualdo? Penso che sarà bello. In coda ti aspetti questo pomeriggio speciale e chi vorresti conoscere dei giudici? Eh, mi piacerebbe conoscere Frank, anche se in realtà sono già venuta due anni fa, quindi già l'ho visto molte volte. Raccontaci come funziona dentro, è bello assistere, è stancante, è lungo? È stancante perché ci sono numerose pause, però ovviamente è un'esperienza fantastica, quindi sì, è bello. Mi è piaciuto assistere generalmente al canto, perché è una cosa che mi piace molto, quindi puoi sentire un cantante che ti trasmette determinate emozioni, è sempre una cosa emozionante. Quindi per adesso aspetto di sentire qualche bel cantante, però ovviamente va bene tutto. Grazie.